Buongiorno a tutti, eccoci qui, 23 settembre, giovedì 23 settembre, siamo reduci, come diciamo ieri, dalla riunione della Federal Reserve, in cui sostanzialmente non vi sono stati cambiamenti direttamente ieri, ma si è messo le basi per un punto di partenza, ecco, che probabilmente avverrà a novembre, o comunque si spenserà a novembre, di come andare a rimodulare il tapering, appunto, e di conseguenza c'è qualche cambiamento in atto finalmente, o meglio, finalmente, c'è qualche cambiamento in atto a livello di politica monetaria, a livello di idea operativa più caldo nella politica monetaria. Niente ieri, nel senso che comunque sarà un aggiornamento a novembre, probabilmente inizierà a metà dell'anno prossimo, ecco, l'inizio del tapering comunque durante l'anno prossimo, a novembre potrebbero oppure le basi per una piccola partenza, però comunque sarà una cosa che ci trascineremo ancora per tempo, e di conseguenza, quantomeno fino a metà del 2022 dovrebbe essere presente il tapering, ecco, magari in forma ridotta, ma dovrebbe essere, i stimoli post-pandemici dovrebbero essere presenti. Quindi il tapering man mano inizierà. Per la prima volta a questo punto, non so se è stato un caso o altro, ma finalmente dico, si sono resi conto che l'inflazione da transitoria, che diceva prima, è diventata elevata, meno male, nel senso che comunque erano probabilmente solo loro a non rendersi conto dell'inflazione che hanno causato e stanno causando con la quantità infinita di liquidità nel sistema. Quindi vediamo un attimino, vedremo che cambiamenti attuerranno e soprattutto come si, le evoluzioni ecco probabilmente di ottobre, novembre eccetera. Ok, allora diciamo, partiamo, andiamo a vedere un pochino i nostri livelli, un pochino di tutto. Come al solito partiamo con il nostro avviso di rischio, che sostanzialmente tutto quello che andiamo a vedere sono livelli operativi e appunto tutta la parte poi di gestione della posizione, inserimento, scelta dalla sites, stop, in generale la decisione sull'operazione deve essere fatta da voi. Come al solito trovate un sacco di materiale sul canale YouTube, sugli articoli eccetera, che vi invito a vedere, ecco, che possono essere interessanti per trovare spunti operativi e in generale magari per costruirvi pian piano attraverso, prendendo spunto ecco sulle varie cose a costruirvi l'operare alla vostra operatività. Come al solito un bel mi piace per la nostra live, è più che gradito, fa benissimo e per i nuovi in maniera molto veloce, chiaramente se vi interessa un pochino gli argomenti finanzi, trading, iscrivetevi al canale YouTube con la solita campanella per essere notificati e attenzione canale Telegram anche iscrivetevi perché comunque anche lì arriva un sacco di notifiche, di articoli, informazioni eccetera eccetera, quindi è sempre un buon punto di riferimento. Ok, spostiamoci in piattaforma e vediamo un pochino il tutto. Solto giro, solta corsa. Allora, giornata di ieri che è stata scandita con veramente tanta forza sul mercato, sull'Europa, sul DAX, veramente tanta forza, ha dato un minimo segnale di prova di cercare di farci rientrare a questi livelli ma altrimenti veramente apertura forte sul massimo, piccola discesa, ecco. Su questi livelli non è arrivato purtroppo sulle zone che ci eravamo indicate come più interessanti che erano proprio queste, quella dei 365, 318 e poi è ripartito, è ripartito con tanta forza e ha fatto una gran bella strada, ha fatto una gran bella strada e quindi gran bella salita. Rimane valdo un pochino lì di fondo nel senso che secondo me il mercato si scontrerà adesso con delle resistenze abbastanza importanti, che darà un pochino l'idea di quello che potrò andare a fare nei prossimi giorni. Purtroppo ci è arrivato ieri sera con la zona che eravamo interessati a lavorare e adesso sta dimostrando ancora forza. Vi dirò per quel che riguarda la giornata di oggi sinceramente qui in mezzo non mi interessa, a questo punto potremmo andare ad aspettarlo o più in alto, ecco, quindi sui 676, 747, ecco, questi livelli per cercare operazioni ribassiste, oppure se dovesse appunto perdere i 513, quindi qualcosa del genere, una debolezza, poi perdere i 513, quindi di questi livelli, può essere interessante, ecco, può essere interessante cercare un'operazione ribassista. Operazione ribassista che però si scontrerà con delle aree in cui ha lavorato abbastanza il mercato, ha lavorato abbastanza perché vedete come questa zona è stata discretamente lavorata e paradossalmente c'è poco spazio, poco spazio perché questa zona potrebbe dare fastidio per un eventuale rimbalzo. La zona è quella dei 460-420, questa piccola zona. Quindi paradossalmente l'operatività su questa zona che era quella che mi interessava di più è quella che è più difficile da mettere in atto, secondo me. Aspetterei a questo punto, ecco, i 676-740 per da queste zone cercare eventualmente l'operazione ribassista che era veramente bella, bella e importante. Operazione ribassista che, come dicevamo, secondo me può portare addirittura il mercato su questi livelli, su 460, quindi potrebbe essere una gran bella operazione. Qui mi piaceva tanto come zona, però purtroppo ce l'hanno rovinata un pochino il fatto che sono a retina nottata, adesso dimostrano forza, quindi aspettiamole in alto eventualmente per cercare operazioni ribassiste. Inferiormente, purtroppo, per fortuna, abbiamo due o tre livelli che sono abbastanza interessanti per cercare eventualmente delle operazioni rialziste, perché comunque è salito tanto il mercato e, secondo me, al primo touch, da questa zona, scusatemi, da questa zona, questa secondaria e la terza, può essere interessante cercare delle piccole operazioni rialziste. Le zone sono 462-420, 364-313, che è quella meno interessante probabilmente delle tre, ed eventualmente nel caso di sell-off completo abbiamo comunque la zona di 137-60, dove assolutamente questa zona è interessante. Quindi queste due sono quelle più interessanti, area 1 e area 2, area 3 è quella un po' meno interessante che quella praticamente del 21 di martedì, l'area un po' meno interessante perché è stata rovinata. Diciamo che appunto sono queste due aree le zone più interessanti, secondo me, da cercare delle operazioni rialziste e cercare di lavorarlo in questo modo. Chiaramente l'operazione più importante probabilmente potrebbe essere proprio questa, quella di 15.675-15.740 per cercare l'operazione ribassista da questi livelli. E' peccato veramente che questa zona ce l'ha rovinata, nel senso che comunque ce l'ha lavorato tanto ieri sera, questa notte, o meglio questa notte poco fa, ecco, sì, una nottata, e non mi convince più, ecco, non mi convince più. Cerchiamo eventualmente da queste zone di cercare operazioni ribassiste. Un'idea di fondo, vi dico, non ne ho troppe, nel senso che comunque voglio vedere come si comporta in questa zona, ecco. Già ci ha dato un segnale di forza, secondo me, che il fatto che ha rotto questa zona. Sì, non era un po' strano, nel senso più tirato su degli americani che altro. Sarà interessante capire 6.77, appunto, 7.46 perché da qui, secondo me, è interessante cercare operazioni ribassiste. Se dovessero rompere il rialzo, beh, attenzione perché bisogna capire un pochino cosa vorrà andare a fare, perché secondo me ci sono tutte le promesse paradossalmente per tornare su 16.000, ecco, se dovessero rompere i 15.760, questa zona qui. Quindi vediamo un pochino. Eurostox, allora, Eurostox che, giornata di ieri, anche lei molto spinta sull'Eurostox, per chi è rientrato sulla debolezza, sulle zone che c'eravamo prefissate, diciamo, penso, perché è stato bravo a cogliere il mercato, nonostante la caduta, comunque, magari sul ritest, ecco, della zona. Penso che è arrivato a target, nel senso che comunque le zone più interessanti erano proprio queste, la zona di... una zona veramente importante, sia a livello di resistenza, supporto, eccetera. Questa zona qui, quella dei 4.178, 4.197. Continua a rimanere importante, nel senso che da qui sto per eventualmente operazioni rialziste e proverei in ottica leggera, ecco, stando dalla parte della ragione, ecco, nel caso in cui ci dimostrasse debolezza da questa zona, ecco, quindi disegnasse con una discesa o comunque dimostrasse debolezza, cercherei eventualmente delle operazioni ribassiste, leggere, leggere un terzo di sezza operativa, proprio perché stiamo un pochino dalla parte della ragione, ecco. Teniamo in considerazione, per far questo, anche la posizione del DAX che non debba rompere i 15.750, ecco. Sotto questo punto di vista si potrebbe provare, e capita raramente che io inserisca posizioni ribassiste sull'euro stocks, ma si potrebbe provare dell'operazione ribassista a questi livelli, quindi 4.178, 4.197. Si può provare, vediamo un attimino cosa si può andare a fare. Target e target dell'operazione, secondo me, può essere assolutamente questa zona, quella dei 4.127, 4.110, che assolutamente, siccome ci può assolutamente stare come possibilità per cercare eventualmente questa operazione ribassista. Qui in basso, quindi 4.127, 4.110 e soprattutto, ecco, 4.099, 4.080, possono essere interessanti per cercare eventualmente delle operazioni rialziste di mercato. Io andrei a cancellare questa, perché comunque mi piacerebbe andare a cercare di lavorare al mercato su livelli un pochino più rapidi, ecco, cercare di seguire un pochino più il mercato, perché è cambiato e finalmente, essendoci un po' di volatilità, si può provare anche a lavorarlo in maniera più smart, ecco, più in 3D, o comunque più di cercare delle posizioni un pochino più veloci. Quindi per quello anche che cercherei, proverei eventualmente dell'operazione ribassista a questa zona nel momento in cui mi dimostrasse debolezza. Quindi le zone sotto velocemente di supporto sono 4.127, 4.109, 4.099, 4.078, esattamente, ok, perfetto, e 4.051, 4.032. S&P 500, allora S&P 500 che, anche lui, bello diretto, sono aggiornato ieri, ha avuto il minimo di una nottata e poi praticamente è salito e basta. Durante l'apertura, il cliente ha fatto una leggera discesa, ma è salito assolutamente. Speravo, mi sarebbe piaciuto vedere con la riunione della Fed che arrivasse in questa zona di resistenza, ma purtroppo non ci è arrivato, purtroppo non ci è arrivato, infatti poi praticamente si è mosso, seguivo il Nasdaq, vi dico la verità, si è mosso di 200 punti praticamente il Nasdaq durante la conferenza, 160-200 punti. L'S&P ha fatto 117-80, quindi sono 40 punti mal contati, qualcosa meno. E niente, io per l'S&P lavorerei nel medesimo modo, nel senso che secondo me ha senso lavorarlo con la stessa idea, nel senso senza fare dei grandissimi sconvolgimenti, per l'S&P io cercherei eventualmente di lavorare in ottica ribassista questa zona. Ottica ribassista nella zona dei 4.427-4.443, eccola qui, cercare operazioni ribassiste, oppure la seconda zona è 4.473-4.485 per cercare operazioni ribassiste. Inutile dire, la prima zona è quella che mi interessa di più, zona 1, però non disegnerei anche il fatto di provare a lavorare questa zona 4.473, è abbastanza lontana questa zona, è vero? Diciamo che già questa zona secondo me può essere molto interessante per cercare delle operazioni ribassiste importanti. Operazioni ribassiste che paradossalmente io cercherei, o meglio no, sulla debolezza non cercare troppo, perché comunque il mercato, vedete che ha lavorato abbastanza bene, ecco, senza dei grossissimi, non abbiamo dei buchi di volatilità o comunque delle inefficienze, quindi operazioni ribassiste da queste zone non le cercherei. Se dovesse il mercato scendere invece da questi livelli, assolutamente, Rivana e Valda, la prima operazioncina per la giornata di oggi, nel senso per la giornata di, praticamente per l'apertura che è da questa zona, stiamo molto leggeri, quasi da scalping, ecco. Se dovesse appunto rompere i 4.401-4.393, non provare operazioni ribassiste perché non mi piace come cose, ecco, e dico la verità, però per il mercato secondo me ci sono buone possibilità che arrivi sui 4.358-4.335, dove da qui cercherai assolutamente un'eventuale posizione rialzista o una ripartenza di mercato, perché tutto sommato mi piace, mi continua a piacere questa zona, assolutamente. Quindi diciamo che il top secondo me sarebbe cercare un'operazione ribassista proprio su questi livelli, ecco, su 4.427-4.443. Attenzione, l'unica cosa, al mercato, perché sappiamo come abbiamo bisogno di una conferma soprattutto per lato ribassista, perché appunto se il mercato comincia a salire con poca volatilità, con lentezza, step by step, quindi prendete candela dopo candela, un pochino come ha fatto il DAX nella giornata di ieri, qualcosa del genere, vedete, bisogna stare attenti perché un mercato così difficilmente si ferma, bisogna avere qualcosa del genere e poi effettivamente vedere una discesa. Quindi stiamo attenti su questo punto di vista. euro-dollaro, dopo guardiamo l'euro-dollaro, adesso guardiamo il Nasdaq e poi vediamo l'euro-dollaro un pochino, cosa ha fatto e i livelli. Allora, Nasdaq, Nasdaq, come diciamo, ha fatto una gran bella escursione durante la riunione, perché vedete qui che razza di movimento, 15.233, 15.099, 100 punti, ho sbagliato, 100 punti, però tanta roba, nel senso comunque 100 punti sono quasi l'1% di escursione, una volta l'1%, adesso con 15.000 sono 08, ecco 07. molto similare a S&P, molto similare a S&P nel senso che le zone più interessanti da lavorare sono sopra, e appunto abbiamo la zona dei 15.350, dove da questa zona cercherei operazioni ribassiste di mercato, molto similare. Mi sembra un pochino più forte dell'S&P, però stiamo lì a guardare il pelone nuovo, ecco, assolutamente. Quindi da questa zona secondo me è il top per cercare un'eventuale operazione ribassiste. Se dovesse superare questa zona, beh, il mercato secondo me arriverà in maniera molto veloce a 15.560, 15.600 praticamente, 560-600. Perché è vero, abbiamo tutta questa zona, ma è veramente caotica come zona, non ho dei punti di riferimento, meglio prendere come punti di riferimento questi, a prendere questi come punti di riferimento, più che questa zona che secondo me può creare caos. Quindi se dovesse superare appunto i 360, è vero, è lontano come zona, ma qui in mezzo, essendo praticamente, vedete, questo razza di laterale, non metterei troppo le mani perché secondo me potrebbe il mercato fare questo, arrivare qui ed eventualmente cominciare a lateralizzare in questi livelli. Quindi perché voglio questo? Perché sarebbe anche l'estremo del, diciamo, del laterale e molto probabilmente magari potrebbe fare una falsa rottura di questo laterale sulla zona di resistenza e poi cercare operazione ribassiste. Questa è l'idea. Qui in mezzo mi spaventa un po' metterci le mani perché secondo me ci si può fare solo male, ci si può fare solo male. Ma già, poi oltretutto, la zona più interessante, come dicevo, è proprio questa, quella dei 15.300, 357, dove da qui cercare operazioni ribassiste di mercato. Operazioni ribassiste di mercato si potrebbero cercare in maniera anche un po' aggressiva, me ne rendo conto, sotto praticamente i minimi di ieri, sotto i minimi di ieri, nel senso, o meglio, i minimi di ieri, i minimi della conferenza stampa. Quindi sotto i 15.100, stando molto attenti con una size ridotta, eventualmente si potrebbe provare un'operazione ribassista, ma andiamo di un quarto di set operativa, secondo me, perché comunque è giusto per mettergli un po' di carne al fuoco, ma comunque stare molto attento e soprattutto seguiamo la dinamica. Sarebbe interessante vedere magari il movimento di discesa, ecco. Perché non mi scrive più? Scusate un secondo. Oh mamma mia. qui mi scrive? Sì? Non mi scrive più? Arriva. Allora. Science drawing. Vediamo se va? Ok, adesso va. Non lo so. Allora, diciamo, ok, perfetto. Cosa dicevamo? Che sostanzialmente questa zona sarebbe interessante la possibilità di un'operazione ribassista, ma voglio vedere effettivamente una rottura e un ritest di questa zona, ecco. Quindi della zona che va dai 15.100, 15.110, 120, qualcosa del genere. Proprio perché la prima rottura sicuramente sarà fake, molto probabilmente sarà fake, una falsa rottura, e poi eventualmente se dovesse dimostrare c'è debolezza, lì si prendere forza e lì si lavorerà, ecco. Con target. Target che potrebbe portare un bel sell off, nel senso che io qui in mezzo non è che ho tante cose che possono andare a tenere alta, diciamo, a tenere in movimento. Perché queste zone sono state fatte tutte di notte, ecco. Sì, questa zona può dare fastidio, ma secondo me partirà il sell off sotto questi minimi, quindi paradossalmente il mercato potrebbe arrivare e la destinazione del mercato è 14.856, 789. E da qui cercherei eventualmente operazione rialzista di mercato. Questa è un po' l'idea generale del Nasdaq, ecco. Cercherei di far questo, cercherei. L'operazione top secondo me è proprio questa, nel senso l'operazione ribassista dai 15.300, 15.357. Questa è l'idea. Eurodollaro, allora, euroodollaro. Sono lungo da 1.0, vedo rialzista fino a 17.45, almeno penso che arrivi a 10.10. L'analisi volumetrica, ok. Oggi dati importanti, sì, esatto. Oggi dati importanti su Gran Bretagna e più che altro Germania, sì. Sono dati macro che io metto pochino il tempo che trovano i dati macro, purtroppo, perché sono molto secondari rispetto alle banche centrali, ecco, secondo me. Comunque sì, su euroodollaro, assolutamente. L'euroodollaro, per chi segue sostanzialmente il canale, sa bene che tutte, finché non cambierà la politica monetaria, ma effettiva, non solo parole, ecco, io sarei, su eventuali supporti, sono compratore di euroodollaro. Il mercato si è appoggiato ieri sera durante la riunione, in generale questa notte, su questi livelli, per cercare una ripartenza. Diciamo che come target, ecco, io come target vedo addirittura la possibilità, il primo target è 17,70, 17,87 come primo target della zona, proprio perché, sì, questa zona, è vero, potrà dare resistenza, 17,30, non tanto, 45, penso che sia questo massimo, ecco, comunque, questa zona. Però, diciamo, come target vedrei più 17,7, 17,86, però vediamo. Assolutamente, per chi è dentro, io cercherei di tirarle la situazione di stare in posizione, a livello rialzista, per chi non dovesse essere dentro, non dovesse essere dentro, secondo me sarà interessante eventualmente su un arretramento a 16,85, 16,64, questa zona, oppure, sì, questa zona con questi minimi, praticamente i minimi di ieri sera, esatto, cercare un arrivo in questa zona, magari sulla falsa rottura di questi minimi, una ripartenza, e, eventualmente, se dovesse essere ancora più profonda la discesa, abbiamo sempre questi minimi dei 16,60, con la possibilità di arrivare basso su questa zona, eventualmente costruire un'inversione. Chiaramente, su queste zone, o utilizziamo falsa rottura del minimo, dei minimi, oppure, vediamo che prende forza il mercato, a livello di forza, sinceramente, non andrei troppo a lavorarlo, ecco, perché, comunque, questa zona è importante, per chi è già dentro ci può stare, ma io non mi metterei contro a questa zona, ecco, ormai siamo quasi sotto resistenza, quindi non cercherei troppo di andare a incastrarmi su questi livelli. Sulla debolezza, sì, andrei a comprarlo assolutamente, con il targhi di 17,74, 17,87, e vediamo se nei prossimi giorni, ecco, in generale, potrebbe arrivare 18,0, 18,2, o il target finale, che comunque io metterei lì, metterei lì con magari un terzo di sites, ecco, lascerei pian piano, chiuderei man mano le posizioni, man mano che l'euro dollaro salirà, il target finale, secondo me, è sempre 18,6, 19,2, come zona che ormai abbiamo visto da tanto tempo. Questa è l'idea di fondo. Vediamo, vediamo se l'ennesima ripartenza dall'ennesimo supporto che abbiamo lavorato ormai da giugno, penso che stiamo parlando su questi livelli, l'ennesima ripartenza potrà portare effettivamente il mercato sui nostri target finali. Sterlina, allora, sterlina, medesimo discorso, medesimo discorso, siamo, se vogliamo vederlo sul giornaliero, nella parte bassa di questo laterale, per ora, chiaramente oggi c'è la Bank of England, quindi potrebbe esserci una bella volatilità sulla sterlina, assolutamente. Però comunque se non dovesse cambiare nulla a livello macro, durante la conferenza stampa, ecco, vediamo un attimino, magari potrebbero, non so, innalzare per primi tassi, ecco, non penso, comunque diminuire gli stimoli. Vedremo, vedremo sotto questo punto di vista. Però comunque siamo sempre su zone, secondo me, che sono più interessanti per cercare delle operazioni rialziste di mercato. Quindi, ha avuto una bella reazione il mercato, dopo, ha fatto un bello spike, ha fatto un grandissimo bello spike, la sterlina è ancora di più di euro-dollaro, ha lavorato nella nottata, praticamente, sui nostri livelli, sulla zona dei 36-37, 36 e 35-9, e per me rimane valda la medesima cosa, nel senso che io prenderei, e mi interesserebbe cercare dei long da questa zona, eventualmente sul ritesto di questi livelli per cercare una ripartenza. Attenzione anche a questa falsa rottura di questo minimo, che può essere anche quella di ieri sera, per eventualmente fare un po' di fine tuning per entrare, ecco, per cercare il trigger di entrata. Interessante, però, rimane valda. Vedete come è lavorato questo massimo, la zona, diciamo, questo massimo, che praticamente è il medesimo di questo massimo di 36-9, quindi cosa rimane valda, cosa interessante, per come è scesa, mi piace molto di più la sterlina a livello grafico dell'euro-dollaro, interessante cosa, eventualmente, se dimostrasse forza, la rottura di questo massimo, un eventuale ritest, e sarebbe appunto un acquisto nella nostra zona interessante di sport. Assolutamente, anche sulla forza, lo cercherei di andare a lavorare con il primo target 37-7, 38-0, quindi intorno ai 38, e poi vedere man mano se potrà arrivare magari sui 38-8. Molto distante, quindi terrei come primo target questa zona. Secondo target, questo, che è secondario, secondo me, come zona, diciamo i primi target sono uno e l'altro due nei prossimi giorni, 38-8 come target finale dell'operazione. Vediamo, vediamo un attimino cosa verrà fuori con appunto con la banca centrale, e più che altro non tanto cosa diranno, o meglio, anche cosa diranno, ma soprattutto come reagirà il mercato. Poi andiamo a vedere nel calendario macro l'orario corretto. Però, per me, se non cambia qualcosa a livello macro, per me ci può stare assolutamente lavorare la forza sopra questa zona e cercare dei livelli interessanti. O comunque, non lavorare la forza, cercare di acquistare o sulla forza, oppure su un'eventuale debolezza, ma in generale acquistare sterline contro dollaro. dollaro-yen, allora, dollaro-yen, dollaro-yen, ha fatto un movimento, o meglio, non è che siamo assomigliati, ha fatto un discreto movimento anche esso sulle parole di Powell, però comunque siamo qui che in giro vaghiamo sul nostro supporto, barra resistenza, sulla nostra area target, ecco, sulla nostra area target, il termine corretto. Quindi, rimane valda per me l'idea di fondo degli ultimi giorni, barra settimane, che ci ha accompagnato nel tempo e qualche operazione interessante è venuta fuori, assolutamente, di cercare di comprare eventualmente dei minimi, quindi minimi che sono questi, per lavorare appunto la zona dei 109 e 190, 109 e 0, con particolare attenzione questo minimo che non viene mai rotto, vedete che è la quarta volta che rimbalza, prima volta, primo rimbalzo, secondo rimbalzo, terzo rimbalzo, chi lo sa se il quarto sarà una rottura per una ripartenza, ma in generale da questi livelli io cercherei di lavorare tendenzialmente un'operazione rialzista di mercato. Dovesse scendere ancora più in maniera importante, abbiamo comunque 108 e 75, 108 e 58, e in ultimo luogo 108 e 2, 108 e 0, tutti i livelli da cui cercherei eventualmente, cercherei operazioni rialziste di mercato. Viceversa, dovesse dimostrarci forza, e andare, muoversi verso l'alto, muoversi verso l'alto, stavo guardando una cosa, scusatemi, muoversi verso l'alto, abbiamo la zona che va dai 110 e 29 ai 110 e 30, praticamente, 110 e 60, dove da queste zone, quindi 110 e 44, 110 e 53, questa zona, questa zona, io cercherei eventualmente operazioni ribassiste di mercato. Questa è un po' l'idea di fondo. Teniamo in considerazione i massimi, perché comunque false rotture, come è avvenuto in questo caso, ci sono state che possono funzionare, ma in generale, io tenderei a cercare operazioni di acquisti sulla debolezza e di vendite sulla forza, finché la situazione rimarrà la medesima. Se dovesse muoversi ancora di più, 110 e 33, 110 e 64, ma qui sono livelli abbastanza lontani. Il target, il target è sempre 110 e 80, 109, scusatemi, rimane valida. Come idea. Gold, allora, il gold, il gold, il gold, ieri l'avevamo battezzato come? L'avevamo battezzato col fatto che, secondo me, non dovreva andare da nessuna parte, nel senso che questa zona avrebbe portato, secondo me, o meglio, non mi dava fiducia in cercare operazioni di lungo periodo, ecco. Sì, questa zona avevo cancellato l'operazione ribassista, è vero, ma perché? Perché avevo detto sinceramente di utilizzare eventualmente gli eventuali massimi e minimi precedenti per cercare delle operazioni contrarie. È successo, tutto sommato, nel senso, tutto sommato dico perché lo stop era proprio al limite, nel senso, sei punti era di stop, quindi immagino qualcuno l'abbia fatto, questa operazione, la falsa rottura di questo massimo per cercare l'operazione ribassista, qualcuno no, è vero, perché comunque chiaramente sul dato si è mosso più dello standard, ma comunque siamo in linea, siamo in linea, nel senso che tutto sommato il mercato non si è mosso da nessuna parte. Ora, cosa andare a fare per la giornata di oggi? Sinceramente, per oggi ancora, per non saperne nel genere scrivere, per vedere questo laterale che perdura da tanto tempo, cercherei appunto di lavorare eventualmente le false rotture. False rotture però perché non c'è una direzione conclamata dell'oro, se avesse avuto voglia di salire per ora, penso che non sarebbe tornato indietro ieri sera praticamente, avrebbe preso la strada della salita e di conseguenza cercherei di lavorare le false rotture dell'oro. False rotture, ma se dovesse arrivare su questi livelli, 1735, 1724, da qui cambia tutto, cambia tutto nel senso che da questa zona cercherei in primis eventualmente una ripartenza di mercato. Se dovesse invece perdere 1718, cercherei eventualmente sul ritest di provare l'operazione ribassista per andare a prendere 1788, 1675. Però per ora, ecco, senza farsi troppe illusioni, ecco, prendiamo un bel grafico, ci segniamo i massimi e minimi di mercato dei giorni precedenti, comunque quelli vicini, ecco, anche questo per dire se dovesse fare un altro movimento o cosa che vediamo e cercherei di lavorare eventualmente le false rotture, solito stop massimo 5 punti, nel senso che massimo la rottura rispetto al massimo e minimo precedente deve essere di 5 punti e cercherei di lavorare lo contrario per portare a casa i 10-15 punti senza esagerare, ecco, senza esagerare con le possibilità, o meglio, con i movimenti. A far questo ieri, è vero, lo stop era di 6 punti purtroppo, però il target è stato abbastanza veloce in maniera rapida, ecco, nel giro di poco tempo perché comunque ha fatto 10-15 punti nel giro di una mezz'oretta, ecco, se andiamo a vedere in time frame più piccoli. Quindi teniamo in considerazione questo senza, secondo me, andare a far su idea troppo di lungo periodo, proprio perché supporti e resistenze per ora mi sembra che non stiano per nulla funzionando, ma stanno funzionando solo le prese di liquidità, come vengono anche chiamate, ma comunque le false rotture dei massimi e minimi precedenti e praticamente questa cosa la stiamo mettendo in atto da, se non erro, un mese e mezzo, due, qualcosa del genere, anche di più forse, e ha sempre funzionato sotto questo punto di vista. Praticamente da quando eravamo qui, se non erro, perché comunque abbiamo visto che se era il mercato si era inchiodato, quindi da, anzi, prima, scusatemi, scusatemi, prima della discesa, quindi il mercato si era inchiodato e non aveva senso a coincistere per i nostri target che è sempre, il target è sempre 1860, il problema è che c'è troppa fatica ad arrivarci e secondo me ci sono troppi rischi per cercare di lavorare a quel target. Crude oil, allora, allora, allora il crude oil, dicevo ieri che questa zona non c'era un granché da segnalare, nel senso che dopo aver perso purtroppo l'operazione, perché avevo sbagliato, non ero stato aggressivo a segnalarvela in questa zona come operazione ribassista, il mercato va rimbalzato e poi in questa zona c'è veramente poco, o meglio, la giornata di ieri ha disegnato una zona discreta che comunque mi andrei a segnare come zona, che è proprio questa, che è una zona abbastanza interessante. Cosa andrei a fare? Io aspetterei il mercato sulla zona superiore che sarebbe il top secondo me, la zona dei 72 e mezzo, 73 e mezzo per cercare operazioni ribassiste di mercato, ok? Ma non mi dispiacerebbe assolutamente cercare eventualmente dalla zona dei 71 e 67, 71 e 25 cercare un'operazione rialzista da questi livelli, assolutamente non mi dispiacerebbe. rimane valido, rimane valido anche il 70 e mezzo, quindi questa zona come possibile supporto, come possibile supportino, meno interessante siccome di questo, questo qui è più interessante per la giornata di oggi, questo è meno interessante, teniamolo qui, la zona dei 78, 74, più interessante, scusate ancora, continuo a dirlo, stessi parole, ma la zona se dovesse fare un altro ritorno sui 69 e 64, 69 e 20 per cercare una ripartenza di mercato oppure il supportone 68 e 80, 68 e 10. Diciamo che io lavorerei molto a livello di supporto e resistenza sul petrolio proprio perché non c'è un'idea di fondo secondo me base o meglio, l'unica dove mi sbilanciare di più è proprio la zona superiore che abbiamo indicato, 72 e mezzo, 73 e mezzo, perché mi sembra veramente una resistenza molto molto importante. Inferiormente sarà molto da lavorare come supporto e resistenze e vedere un attimino dove lavorerà e soprattutto dove ci sarà dei segni di inversione. Non abbiamo delle inefficienze da recuperare quindi dobbiamo lavorare come supporto e resistenze. Mi piacerebbe, faccio il film per oggi, che il mercato arrivasse in questa zona e da qui piantasse una bella discesa secca magari di 3-4 dollari veloce e rapida lasciando inefficienza durante il suo percorso in modo tale che poi dai supporti possiamo andare a lavorarlo per colmare queste inefficienze. Butto lì così. Però diciamo il top è proprio questa zona siccome per il giorno di oggi cercare delle operazioni ribassiste 72 e mezzo, 73 e mezzo, la zona superiore. allora vediamo il calendario macro cosa abbiamo? Diciamo dati Germania e dati UK allora vediamo un pochino vari climi di fiducia di Francia il PIL addirittura spagnolo che secondo me andranno a influenzare poco questi dati nel senso a livello di trading mi dico la verità ma hanno idea nel senso che comunque sono le banche centrali che vanno soprattutto a muoverli i costi dati vengono praticamente anacquati non ci sono reazioni degne di notte durante i dati. Poi abbiamo appunto indici PMI Manifatturiero Service Composite di Francia 9 e un quarto che per esempio sta uscendo adesso poi cosa abbiamo? Indici PMI servizi sempre gli stessi praticamente alle 9 e mezzo della Germania decisione di tassi di interesse della Bank National Swiss quindi attenzione 9 e mezzo perché il franco svizzero potrebbe essere in questo caso essendo banca centrale il loro reputo importante e attenzione 9 e mezzo per la banca centrale svizzera la decisione sul tasso di interesse poi cosa abbiamo? Indici PMI sempre Manifatturiero Composite Flash e Flash dell'Unione Europeale 10 ma ripeto secondo me non porteranno da nessuna parte questi dati riunione generale del Consiglio ECB ecco prodotti totali c'è una marea di dati veramente prodotti totali costruzioni per quel che riguarda l'Italia le 10 tutti i dati economici della Gran Bretagna ma soprattutto vedete che pian piano meeting le minuti del meeting soprattutto a luna ecco come dicevo tutta la parte di banca centrale inglese Bank of England appunto che qui praticamente si parlerà di tutto decisione di tassi ci sarà la conferenza anche non mi ricordo più come si chiama vi dico la verità il nuovo governatore sono sincero quantità divisi quindi tutta una serie di dati sulla parte della Sterlina e sulla parte della Gran Bretagna e appunto di conseguenza qui porteranno sì secondo me dei movimenti abbastanza importanti sulla Sterlina quindi stiamo attenti lasciamo uscire i dati lasciamo lavorare i dati e poi se il mercato arriva su dei supporti resistenze o magari se dovessero rompere i massimi che dicevamo prima un eventuale ritest cerchiamo di lavorare di conseguenza e lavorare con calma ecco dopo una volta che sono usciti i dati poi abbiamo vendita del dettaglio canadesi 430 sempre dati appunto canadesi vendita del dettaglio vendita automobili poi America America 430 indici attività nazionali di Chicago che secondo me tutti i costitati saranno abbastanza snobbate dal mercato perché comunque se dovevano fare qualcosa meglio se dovevano fare qualcosa sui dati l'avrebbero fatto ieri sera secondo me sulla costituzione della Federal Reserve sarà più secondo me una questione di trading una questione di livello una questione di movimenti dei mercati abbiamo richieste di iniziare il sussidio di disoccupazione richieste di continui di sussidio di disoccupazione ma sono quelle iniziali non sono quelli finali importanti abbiamo poi discorso Bundesbank niente di particolare indici PMI composito flash market servizi manufatturiero i medesimi della mattina sull'Unione Europea ce li abbiamo nel pomeriggio in America quindi non porteranno da nessuna parte questi dati non saranno così importanti attenzione per chi fa il natural gas alle 16.30 perché oggi può essere una bella bomba atomica nel senso che già si sta muovendo come un matto il natural gas quindi alle 16.30 il cambiamento delle scorte è un bel movimento se volete un mercato volatile noi non lo trattiamo non lo analizziamo ma il natural gas sta facendo veramente di quelle cose importanti veramente importante a livello di range a livello di percentuale di movimento quindi 16.30 è una bomba atomica su questo mercato succederà può fare veramente di tutto e i movimenti che mi attendo sono veramente entusiasmanti diciamo e poi man mano diciamo il fatturiero eccetera sta di banconote sta di bot niente di particolare quindi cosa andrei a attenzionare nella giornata di oggi secondo me la parte più importante è 9.30 appunto per chi fa il franco svizzero decisione dei tassi poi alle 13 tutta la parte di Bank of England quindi sulla sterlina porterà sicuramente delle ripercussioni dei movimenti assolutamente e poi tutto il resto degli indici primari secondo me saranno abbastanza snobbati ma quello top diciamo se volete l'attività è il cambiamento delle scorte di gas naturale perché qui secondo me sul dato ma in generale poi nei prossimi minuti successivi in generale ci sarà una grandissima volatilità del mercato perché in questo momento è un mercato veramente speculativo con tanti tanti movimenti di mercato questa è l'idea niente io per la giornata di oggi ho finito con la nostra analisi spero che sia stata interessante ci rivediamo quindi come al solito domani mattina per l'ultima analisi della settimana a questo punto a questo punto buona giornata a tutti buon trading e ci vediamo domani e occhio ai dati occhio assolutamente a Bank of England Banca Centrale Svizzera e cambiamento delle scorte di gas naturale per chi fa questi mercati a domani buona giornata grazie a tutti